Le scelte che sono state fatte sono state fatte tutte di comune accordo e ovviamente queste scelte tengono conto soprattutto del risultato delle primarie, tengono conto poi del riequilibrio di genere, di competenze, sono scelte io credo equilibrate e credo che nessuno possa accusare queste scelte di partigianeria. Io penso che sia molto importante il rapporto che si è creato tra Bersani e Renzi. Bersani e Renzi faranno questa campagna elettorale in tandem ed è una campagna elettorale che sarà vincente perché se lo spirito delle primarie pervade la campagna elettorale non ci fermiamo.